Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di OneFootball, in questo nuovo video di OneFootball vi dirò tutte le partite di oggi, iniziare da qui. New York Cosmos, India Eleven 3-0, Fort Lauderdale, Minnesota United 0-0, Coppa Aguila, indipendiente Medellin Junior 1-2, Tolima Deportivo Cali 2-0, Coppa Aguila, indipendiente Santa Fe La Equidad 1-0, Coppa Sudamericana, Flamengo Figuerense 3-1, Sport Recife Santa Cruz 0-1, Cape Coenze Kuiaba 3-1, qualificazioni 2018 Asia. Gruppo B, Australia Iraq 2-0, Giappone Emirati Arabi 1-2, Arabia Saudita e Thailandia alle 19.30. Gruppo A, Corea del Sud, Cina 3-2, Uzbekistan, Siria 0-0 ed è in corso, Iran, Qatar alle 18.30. Amichevole per club Utrecht, Camburro 3-0, Magonza Sandhausen 1-1, Schalke Twent rinviata, Ingolstadt Norimberga alle 18.00. Eibar Sporting Gion alle 19.00. Non mi ricordo se ho detto che Magonza Sandhausen è in corso, non mi ricordo se l'avevo detto. 3. Liga Zikao Magdeburgo alle 19.00. Amichevole internazionali, Belgio, Spagna, Olanda, Grecia, Portogallo, Gibilterra, Italia Francia. Ok, tutte quelle di prima fino a Portogallo e Gibilterra alle 20.45. Poi c'è Italia Francia alle 21.00. Quindi stasera credo che tutti guarderanno l'Italia. World Cup 2018 Qualifying, Sud America, Bolivia-Perù alle 22.00, Colombia-Venezuela alle 22.00, Ecuador-Brasile alle 23.00. Ok, questi erano tutti gli appuntamenti di oggi. Quindi seguite l'Italia. Quindi se vi è piaciuto questo nuovo video iscrivetevi e lasciate un like. Ci vediamo, ciao a tutti.